Presentato questa mattina il disegno di legge contro la diffusione del gioco d'azzardo in Abruzzo, a firma dei consiglieri del centro-sinistra dei gruppi Legnini Presidente, PD e Abruzzo in Comune. Si tratta di una legge di sistema che, sulla base di pregresse e positive esperienze di altre regioni, si pone l'obiettivo di combattere in modo più incisivo la patologia del gioco d'azzardo patologico, attraverso la costituzione di una rete territoriale, interventi mirati e una più ampia ed efficace azione di prevenzione. Presenti in conferenza stampa i consiglieri regionali Giovanni Legnini, Antonio Blasioli e Silvio Paolucci. La nostra proposta di legge modifica l'impianto che c'è oggi. È un impianto che prevede esclusivamente la tutela dei luoghi sensibili a partire dal primo di gennaio del 2021. Oltre a questo invece noi andando molto oltre proponiamo una legge di sistema dove tutti gli attori hanno funzioni e competenze. La regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, le associazioni di volontariato, delle vittime ma anche ovviamente degli esercizi e degli esercenti. È un modo di fare sistema che mette in campo una serie di iniziative sul livello della prevenzione, sul livello della informazione e della divulgazione, sul livello ovviamente poi delle reti cliniche laddove bisogna prendersi in carico una persona che poi risulta effettivamente affetta da questa grave patologia. La regione mette in campo una iniziativa annuale con un piano di azione che viene dapprima approvato poi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e poi valutato una volta all'anno dal Consiglio regionale stesso che appunto ne verifica non solo le attuazioni ma anche gli obiettivi che sono stati raggiunti. Ultimo ma non da ultimo due momenti importanti di sensibilizzazione. Non solo il cosiddetto marchio no slot per gli esercizi e gli accenti che non vorranno inserire al proprio interno le sale da gioco ma una giornata annuale dedicata agli aspetti della divulgazione per fare sistema con tutti i soggetti, fare un punto sugli obiettivi raggiunti e ovviamente immaginare nuovi traguardi cioè nuovi obiettivi. Chiaramente c'è anche l'aspetto della verifica del controllo e delle sanzioni laddove non venissero rispettati i dettati della norma nazionale e regionale. Però l'intenzione nostra con questo articolato così complesso è quello di partire dai momenti della prevenzione dell'informazione per arrivare a quelli della cura passando per tutti gli enti in ricompresa appunto le scuole oltre che le asle e i comuni. Ecco perché a nostro avviso può rappresentare una risposta. Noi ci auguriamo che la maggioranza si carichi insieme al governo regionale di confrontarsi su questa importante norma e ovviamente siamo aperti per raggiungere un obiettivo molto significativo alle proposte che arriveranno in consiglio regionale in commissione quando partirà con l'assegnazione questo disegno di legge.